Buongiorno a tutti. Ecco che ci risentiamo dopo un periodo, diciamo, di pratica intensiva, e un periodo che ha portato e che porterà a nuove cose anche per voi. Bene, vorrei parlarvi appunto della Scuola Lunare. Siccome domenica ci sarà la seconda lezione della Scuola Lunare, diciamo legata anche all'America, all'inglese, lingua inglese, per dire, ma è adatta quindi per tutto il mondo, lo sto facendo per questo, e l'impostazione, cioè la Scuola Lunare è sempre la stessa, quindi dà le stesse informazioni, ma diciamo che è stata generata per una comprensione più particolare, più giusta, per la forma mentis delle persone a cui si rivolge, quindi le persone anglosassoni, le persone che hanno letto libri anglosassoni e cose varie. La prossima domenica, quindi, ci sarà la seconda lezione e questo porterà sempre una profondità di conoscenza maggiore del Corpo Lunare. Andremo a conoscere, a capire degli aspetti che solitamente non sono compresi o non sono svelati, se non nel cosiddetto Tempio dei Misteri. Andremo a vedere direttamente come attivare alcune linee del Corpo Lunare in una maniera semplice, che poi tutti pensano che per fare tutto ciò c'è bisogno di anni di pratica. Diciamo che ci possono essere bisogno di anni di pratica nell'istante in cui la persona è completamente chiusa ed è bloccata a livello mentale. Di conseguenza c'è sempre la necessità di andare a toccare delle corde particolari che devono essere sciolte, per poi una volta sciolte è possibile agirci sopra. Quindi questa Scuola Lunare che fa la seconda lezione è che è partita con l'idea e il taglio preciso di chi si rivolge. Vi ricordo che esiste il primo corso della Scuola Lunare che è molto tagliato per il pensiero latino, il pensiero italiano, il pensiero spagnolo, il pensiero di più che altro latino. Questo è un pensiero tagliato, come ho detto, per altre tipologie di menti che possano afferrarla. Però è chiaro che lo possono frequentare anche qualsiasi persona, voglio dire, anche che non sia anglosassone o che è importante che abbia l'idea. Tenete presente che viene fatto in doppia lingua, quindi viene fatto in italiano e in inglese, proprio per dare questa possibilità. Parlerò appunto del risvegliare certe linee e mostrerò appunto qualcosa di molto semplice che possa mettere in moto il corpo lunare come se fosse una specie di motorino elettrico. Bene, spero che possiate essere interessati perché una volta che si è in grado di mettere in azione questo motorino elettrico, chiamiamolo così, ecco che noi abbiamo la grande capacità di usarlo per tanti usi, cioè sia per conoscere innanzitutto ciò che è la parte nascosta di noi. Difatti accennerò già e subito alla proiezione della parte conscia dell'essere umano, cioè quella che attualmente noi conosciamo come personalità, nella parte in ombra dell'essere umano, quello che noi conosciamo come ombra o subconscio o cose varie, usiamo questi termini, però in realtà le cose sono un pochino differenti. Ne parleremo nella seconda lezione, per adesso vi auguro una buona giornata o serata, dipende quando ascolterete e vi aspetto domenica. Se siete interessati a iniziare andate sul sito www.academymra.com, lì ci sono tutte le specifiche, oppure scrivete scuolalunare.gmail.com oppure info.academymra.com www.academymra.com 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 Grazie a tutti.